Oltre 20 milioni di euro, con un mix tra contributi a fondo perduto e lo strumento creditizio di abbattimento dei tassi. È il bando Energia e Imprese che è stato presentato presso la sede di Confindustria Marche. È un bando che presentiamo sostanzialmente per sostenere le imprese in quel ricambio, soprattutto in vista dei parametri indicati dall'Unione Europea di decarbonizzazione, quindi di rivalutazione generale rispetto alle energie fino ad adesso impiegate. Ormai il passaggio verso l'energia sostenibile è fondamentale, imprescindibile. Il bando ha un ampio spettro di possibili beneficiari. È rivolto infatti a tutte le imprese, grandi, medie e piccole. Nell'incontro è stato spiegato quali sono gli obiettivi e come si struttura concretamente. L'intenzione del bando è quella di portare un beneficio alle imprese indirettamente alla collettività da un punto di vista di efficientamento dei processi produttivi da un lato e una possibilità di installazione di produzione energetica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo e quindi per una riduzione del consumo e una minor dipendenza dalle fonti fossili dell'impresa e quindi anche della collettività. Ed è stato un partecipato momento di confronto ed ascolto con i potenziali beneficiari anche per recepire proposte, eventualmente per migliorare il contenuto del bando prima della sua definitiva pubblicazione. Devo dire che le nostre imprese stanno attendendo con grande apprezzione l'uscita di questo bando perché il filone energetico è uno di quelli più strategici. Con questo bando si vogliono stimolare gli investimenti che al tempo stesso efficientano l'azienda dal punto di vista energetico e ambientale ma anche possono sviluppare le fonti rinnovabili. Un filone sul quale si conta ci possa essere un forte incremento degli investimenti che potranno dire molto sulla competitività del sistema imprese e marche.